Con estremo piacere e orgoglio che annunciamo la partecipazione di Imperia per la prima volta ad Euroflora. Euroflora è una vetrina internazionale importantissima per tutti gli amanti dei fiori, dei giardini, delle ville storiche e abbiamo deciso quest'anno di partecipare anche noi perché è un modo per cominciare a presentare al grande pubblico il lavoro che stiamo facendo sui musei. In questo caso abbiamo scelto Grock perché ovviamente il giardino è la vita più importante che abbiamo ad oggi qua ad Imperia e siamo anche stati molto fortunati sul tema perché il tema di quest'anno di Euroflora è l'acqua e noi abbiamo appena finito di restaurare i giochi d'acqua così come stiamo portando avanti il recupero filologico del parco. Sarà un aiuolo, uno spazio importante, avremo dei vicini altrettanto autorevoli come l'Olanda, Monte Carlo e quindi cercheremo ma siamo sicuri di non sfigurare e allo stesso tempo siamo vicini all'ingresso per cui in un'area molto frequentata. Questo siamo sicuri darà molto spazio e molta visibilità alla città di Imperia e a Villa Grock che apriremo nel mese di giugno. Quindi sarà un anticipo di quello che poi si potrà trovare. Allo stesso tempo questo progetto rafforza la collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Ligori e il Museo Bicknell perché nella nostra aiuola ci sarà appunto spazio anche per loro. Grock e Bicknell sono stati personaggi immensi e importantissimi della storia del nostro territorio, esteri che hanno deciso di piantare radici nel vero senso della parola qua nel nostro territorio e abbiamo così deciso di improntare la aiuola proprio su questi personaggi del ponente. Ci auguriamo insomma che anche tanti imperiesi possano andare a visitare Euroflora. Quelli che non andranno troveranno parte degli allestimenti nella nostra città poiché abbiamo proprio cercato di creare una aiuola dove poi gli allestimenti non venissero, non terminassero con Euroflora ma potessero essere riutilizzati sia gli allestimenti che i fiori. È un'occasione importantissima coordinata dal Comune di Imperia che porta ad Euroflora due eccellenze che sono appunto Villa Grock e il suo giardino di pietra come ha definito Claudio Littardi e il giardino del Museo Bicknell di Bordighera ma che sono due esempi che rappresentano oltre alle due realtà illustrate in questa meravigliosa aiuola di Euroflora anche quelle che sono le eccellenze di tutto il ponente Ligure sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista artistico ma in questo caso dal punto di vista paesaggistico, naturalistico. Nella nostra zona ci sono specie arboree eccezionali, basta pensare anche ai giardini botanici riemburi al confine e veramente si candida il nostro territorio per essere uno degli itinerari naturalistici da proporre a turisti appassionati sempre più numerosi. Come ha già anticipato l'assessore stiamo lavorando anche per realizzare un'offerta a rete. Chi viene a Imperia troverà informazioni per tutti gli altri poli della provincia. Noi del Museo Bicknell siamo assolutamente convinti e coinvolti in questa iniziativa e daremo tutta la nostra collaborazione per aumentare questa offerta di tutta la provincia. Ci troviamo in presenza di un giardino di pietra per quanto riguarda Villa Groc, quindi un giardino che mantiene una sua forma costante nel tempo e un giardino profondamente naturalistico quello del Bicknell. Quindi abbiamo cercato di unire questi due animi all'interno di questa aiuola. La aiuola è formata da anelli di pietra che rappresentano le vasche, quindi l'acqua di Villa Groc con la pietra che richiama le strutture e quello che è il personaggio di Bicknell attraverso una bicicletta e una pianta di glicine accanto a lui. Quindi simboleggia un po' quello che è questo giardino legato alla tradizione del giardino mediterraneo, del giardino d'acclimatazione degli inglesi. Quindi unisce un po' quelle che sono queste due eccellenze del giardino del ponente Ligure che sono particolarmente importanti e rappresentano un patrimonio culturale che non sempre è apprezzato ma è molto importante, anche in previsione di quello che sarà un futuro turismo culturale che si sta sempre più muovendo e ricuote sempre più interesse anche a livello internazionale e soprattutto nel nord Europa.